dice 25 miliardi sono troppo pochi, noi falliamo, ha raccontato in diretta, essendo lui un imprenditore dello sport e del turismo, di avere messo a casa 1200 persone, quindi sono 1200 famiglie ed è solo l'inizio. Guarda Barbara, innanzitutto grazie per la possibilità di essere qua, perché ritengo mio dovere aggiornare chi ci guarda da casa su quello che stiamo facendo per aiutare ognuno nei propri limiti del Paese. Le ultime due telefonate che ho fatto prima di sedermi qua da te sono state una con un imprenditore, anche lui disperato, che ha 200 dipendenti e mi dice se il governo mi chiede di pagare venerdì, quindi dopo domani, quello che io non ho, perché ovviamente da settimane non stiamo vendendo, non stiamo incassando, non stiamo esportando, non stiamo fatturando, io lascio a casa 100 persone su 200, di più, io non pago tutti i fornitori, tutti i piccoli, tutti gli artigiani che mi hanno fornito materiale per i negozi perché non ho questi soldi, o li do allo Stato, o li do ai dipendenti come stipendio, o li do ai fornitori, quindi rischia di essere una strage, ma non dei grandi. E' per questo che il tetto di 2 milioni in fatturato sopra il quale venerdì, come se fossimo in un periodo normale, tantissimi imprenditori devono pagare le tasse, è una follia e questa sarà la nostra prima educata richiesta al governo, posticipare a giugno tutti i versamenti, altrimenti ci andranno di mezzo i piccolini. La seconda telefonata era col governatore della Lombardia, Tiglio Fontana, che ovviamente è la regione in trincea, un abbraccio alle province di Brescia e di Bergamo, che ovviamente hanno medici. Oggi, Salvini, oggi abbiamo visto l'esercito, abbiamo visto una fotografia che è veramente altro che guerra, peggio della guerra, che portava via le bare perché non c'è più posto a Bergamo per bruciare i resti di queste persone. Il governatore Fontana ha ribadito, e io lo ribadisco al governo, la richiesta che ancora di settimana scorsa e ancora di domenica, di aumentare le chiusure degli artigiani e dei negozi non fondamentali nelle province più colpite, perché qua siamo all'asturdo che nel decreto, ad esempio, le scuole sono chiuse per gli studenti, ma sono aperte per decine di migliaia di lavoratori della scuola che sono costretti a uscire di casa e andare a scuola senza nessun senso. Ci sono ancora troppi negozi aperti, poi in Lombardia per carità sta facendo i miracoli, apre un ospedale da campo a Cremona, grazie al sostegno degli Stati Uniti, a cui va il nostro ringraziamento. Si sta preparando un ospedale da campo a Bergamo e un nuovo ospedale in fiera a Milano al posto dei padiglioni, però serve personale. Sfrutto anche questo spazio per fare l'appello che stanno facendo i governatori ai medici andati in pensione da poco e agli studenti specializzanti in medicina anche al primo e al secondo anno i macchinari stanno arrivando, la regione Lombardia sta cercando macchinari in Sud America, in Nord America, in Thailandia, ovunque nel mondo mancano uomini e donne ovviamente, anche perché ci sono medici, infermieri e os che sono in corsia da uno, due, tre, quattro giorni e poi umanamente ovviamente si scoppia. Quindi questa è l'emergenza sanitaria. Ho sentito il governatore Zaia che la sta limitando, chiedendo tamponi a tutti coloro che rischiano di essere positivi, ho sentito la governatrice della Calabria, Santelli anche lì stanno prevenendo il rischio, sono già arrivati a 165 letti di terapia intensiva, il governatore della Sardegna, Solinas, ha chiuso porti e aeroporti, quindi ci si sta attrezzando come meglio si può sul fronte sanitario, sul fronte economico. Noi oggi abbiamo letto queste 70 pagine. Andiamo alla proposta, la proposta della Lega è di postecipare tutto a 31 maggio, quindi anche la scadenza di venerdì 20. Tutte le scadenze fiscali per i piccoli e per i grandi almeno a giugno, ma dico almeno perché qualunque negoziante, qualunque commercialista, qualunque imprenditore ci stia guardando sa e lo sanno tutti che se a Dio piacendo e alla medicina piacendo entro uno o due mesi verrà che ha arrestato questo maledetto virus prima che riparta l'economia, prima che i negozi tornino a vendere, prima che i fornitori tornino a essere pagati, occorreranno mesi. Prima che ci passi la paura. Noi abbiamo proposto come Lega l'anno bianco fiscale per tutto il 2020. Lei ha visto che il messaggero l'ha ripresa senza mascherina, non ha paura? Guardi, sono andato a fare la spesa, non penso di essere in compagnia di tanti italiani, essere andato a fare la spesa sotto casa, mancano le mascherine ai poliziotti, può mancare la mascherina anche a un senatore, se avessi una mascherina preferrei darla a un agente della polizia penitenziaria che è in prima linea, è in trincea, spesso senza mascherine. Quindi l'emergenza sanitaria la stiamo combattendo con l'anima dei sindaci, dei governatori, chiedendo sacrifici agli italiani. In una dichiarazione andrò anche al Quirinale dal Presidente della Repubblica per farmi ascoltare. Quando ci andrà? Domani? Guardi, il prima possibile, perché noi abbiamo letto questo decreto, ce l'abbiamo qua, 127 articoli e già 127 articoli complicatissimi per l'artigiano, per la partita IVA, per il genitore a casa, con i figli a casa da scuola che non sa che cosa deve fare, per il pensionato, per il disabile, per il camionista, per il floricoltore, già è complicato. Però ci sono alcune lacune che spero verranno accolte e quindi le proposte le facciamo al governo. Quindi sospendere almeno fino a giugno il pagamento di tutte le tasse, rivedere i famosi 600 euro per i lavoratori autonomi che non servono neanche a pagare un quinto dell'affitto, avere norme certe sui mutui, perché le famiglie perfino sui mutui per la prima casa non hanno certezze. Poi, permettimi, cosa c'entra nel decreto cura Italia e antivirus le norme che prevedono la possibilità di uscire dal carcere per 6.000 detenuti. Ecco, questo è un punto che abbiamo trattato anche con Nicola Porro, perché da un lato c'è chi rischia, magari essendo uscito di 300-400 metri dal perimetro di casa, una denuncia penale che gli resterà certificato tutta la vita, perché è un reato penale quello che è previsto dal decreto dell'8 marzo, e poi c'è chi esce dalla prigione, magari ha sgozzato la moglie, oppure ha spacciato droga tutta la vita, ha fatto rapine. Ecco, questo è un momento che i garantisti e anche chi è attento al diritto, insomma, è un momento di smarrimento. Ma soprattutto non è materia legata all'emergenza sanitaria. Fra i reati per cui è possibile avere questi premi, questi mesi di anticipo in uscita, ci sono spaccio di droga, rapina, furto e truffa. Ora, noi arrestiamo quello che esce di casa per andare a fare la spesa troppo lontano e facciamo uscire lo spacciatore e il rapinatore. Non è la polemica della Lega. Io chiedo cortesemente al Presidente del Consiglio di togliere dal decreto che parla di lavoratori autonomi, di pensionati e di virus, uno svuota carceri che non c'entra assolutamente un fico secco con questo. E poi, permettimi, oggi si sono espressi lamentandosi o chiedendo dei cambiamenti gli agricoltori, i sindacati, gli imprenditori del legno, i balneari, gli imprenditori della moda, i taxisti, i camionisti. C'è tutto il mondo del lavoro autonomo che è escluso dalle garanzie. Ci sono dei lavoratori dipendenti a cui viene dato un bonus di 100 euro al mese. Salvini, cosa bisognerebbe fare però? Dove si trovano questi soldi? Come vengono dati? Come si fanno ad aiutare tutte le persone? Ma i soldi sono in Italia. La Germania stanza 500 miliardi, la Spagna 200 miliardi, la Gran Bretagna 300 miliardi e noi 25. Io ricordo a chi ci guarda che il prodotto interno lordo italiano dell'anno scorso, cioè la ricchezza prodotta dai lavoratori italiani l'anno scorso è stata di 1800 miliardi di euro e ricordo un altro dato che noi dal 2011 ad oggi al Fondo Salva Stati Europei e agli altri fondi per aiutare gli altri paesi europei abbiamo dato come Italia 58 miliardi. Ora, domanda, vi sembra un atto di egoismo, di leghismo o di sovranismo chiedere di riprenderci per gli italiani i 58 miliardi che come italiani abbiamo dato per aiutare gli altri? Possiamo richiederli per i nostri ospedali, per i nostri medici, per i nostri poliziotti? Quindi sono ragionamenti che noi continueremo a fare col governo sperando di essere ascoltati. Allora, vogliono prorogare più avanti, forse fino a dopo Pasqua, le misure restrittive. Siete d'accordo voi della Lega? Sì, assolutamente. Teniamo aperto l'essenziale. La gente deve poter andare in farmacia, anche qua però l'appello dell'ordine dei farmacisti al governo non è stato accolto e noi lo rifacciamo. Farmacie aperte ma senza mettere a rischio la salute dei farmacisti. Quindi tenendo a distanza con il servizio al portone e all'ingresso che c'è nelle farmacie notturne, altrimenti si ammalano pure i farmacisti e i negozi alimentari. Poi tutto il resto, gli artigiani e altro tipo di negozi devono chiudere, anche i mezzi di trasporto pubblico. Non possiamo vedere foto di gente in metropolitana, a Milano, troppo vicina. Quindi è chiaro che se c'è un rischio per la salute bisogna intervenire. Ovviamente, come diceva Briatore, ho sentito le ultime sue parole, ovviamente tutti devono essere garantiti. Chi chiude il negozio deve avere garanzie sull'affitto, sulle bollette non c'è niente nel decreto sulle bollette. Salvini, tanti fanno un po' autocritica su quello che è stato tagliato dalla sanità. Negli anni passati sono stati sacrificati i posti letto. Noi abbiamo un numero minimo di terapie intensive rispetto agli altri paesi europei. E soprattutto sono stati fatti tagli a tutti i livelli e soprattutto tagli anche agli stipendi di quelli che ora definiamo eroi, infermieri, medici e personale sanitario. Pensiamo anche alle scuole chiuse se non avevano abbastanza studenti, alle caserme di polizia o ai comandi dei vigili del fuoco chiusi se non c'erano abbastanza abitanti. E uno chiedeva perché, è perché c'è il rapporto deficit-pil, c'è il pareggio di bilancio e ce lo chiede l'Europa. Ora, mi sembra chiaro a tutti che passata l'emergenza sanitaria che è la priorità, perché stanotte Bergamo e Brescia sono delle trincee di guerra e quindi onore a chi esce in ambulanza e chi è in corsia di ospedale e ai sindaci che sono in prima linea, però bisognerà ripensare anche al ruolo dell'Europa, alla solidarietà europea, a parole e non a fatti. Ma ripeto, questo quando sarà vinta la battaglia sanitaria, noi però come lega stiamo portando... Ma lei che spiegazione vi date del fatto che la Lombardia, una regione così ricca, così organizzata, col miglior sistema sanitario forse d'Europa, è poi stata colpita così? Che cosa è stato? Cosa è successo? Beh, in Lombardia ci stanno 10 milioni di abitanti, quindi è chiaro che è uno Stato europeo, si sono moltiplicati i letti negli ospedali e i letti in terapia intensiva, sono aumentati di 4-500 grazie al lavoro dei medici, al lavoro del governatore Fontana, al lavoro dei dirigenti, è chiaro che se però a stasera tu hai non uno ma mille letti di terapia intensiva occupati e terapia intensiva per chi non lo sa a casa significa che non respiri da solo, ma hai le canne e sei attaccato a una macchina per respirare artificialmente, tu puoi chiedere l'aiuto ai privati, puoi fare l'ospedale in fiera, puoi fare gli ospedali da campo a Bergamo, a Cremona, puoi chiedere l'intervento delle altre regioni, puoi avere l'aiuto degli americani, però oltre un certo numero tu non riesci a fare e quindi c'è uno sforzo che ha dell'eroico, ma non solo lì, il problema è in Emilia Romagna, il problema è in Veneto. Ma la Lega entrerebbe in maggioranza per dare una mano all'Italia, vista la situazione che avete descritto? Non ho sentito, mi perdoni. Entrerebbe la Lega in maggioranza, cioè andando a parlare col capo dello Stato, la Lega, si mostrerebbe anche disponibile ad allargare il governo, a entrare al governo? Guardi qua non si tratta di, non ci interessano i posti, ci interessano le idee, noi qua queste sono tutte proposte che arrivano dagli agricoltori, dai pescatori, dagli edicolanti, dai taxisti, c'è il mondo dei precari. Ecco ma in Parlamento voi potete emendare il decreto, potete cambiare il decreto, si riunirà il Parlamento? E noi abbiamo chiesto di lavorare anche domani, il ragionamento che abbiamo fatto noi, mi dica se è sbagliato, ci sono i medici che lavorano, sì, gli infermieri che lavorano, sì, i postini, le cassiere dei supermercati, i ragazzi che portano le cene a casa, i giornalisti, i farmacisti, gli edicolanti, i tabaccai e perché i parlamentari no? Ovviamente chi è malato sta a casa, ovviamente stando a distanza, ovviamente lavandosi le mani, mettendosi la mascherina in Parlamento, noi abbiamo chiesto domani di poter andare a lavorare al Senato, alla Camera perché ci pagano per questo e ci hanno detto ne riparliamo settimana prossima. Però qua ogni giorno che passa per la sanità è un problema, per l'economia sarà un problema, c'è tutto il mondo del precariato. Tu pensa agli stagionali, ai precari, ai dipendenti delle cooperative, ai ragazzi a tempo determinato, a tutte le palestre, centri benessere, tutti i luoghi che sono stati chiusi, circoli sportivi, è un'infinità, poi sono poco vivibili perché magari non hanno chi li rappresenta, però esistono. Però sono milioni i lavoratori, ti faccio un esempio di ingiustizia che c'è in questo decreto che cercheremo di correggere per chi ha i figli a casa perché non vanno a scuola. Se sei un lavoratore dipendente hai il bonus, babysitter o il congedo, se sei un autonomo, una partita IVA o un precario non hai il bonus, babysitter e il congedo. Non possiamo mettere italiani contro italiani. Servono 50 miliardi? Mettiamoci 50 miliardi. Servono 100 miliardi? Mettiamoci 100 miliardi. Non penso che in Europa si arrogherebbero il diritto di dire no. Se serve agli italiani no, ai francesi sì, ai tedeschi sì, agli spagnoli e ai francesi sì e agli italiani no. Però le cose bisogna chiederle. Ecco, bisogna chiederle, ma lo chiederete appunto anche al Presidente della Repubblica? Ah certo, se serve assolutamente sì. Io ho sentito più volte il Presidente del Consiglio, ho sentito peraltro anche il Ministro della Giustizia Bonafede a cui ho detto la Lega è sempre stata e sempre rimarrà contraria agli sconti di pena per chi è in carcere. indulti, amnistie, mascherate. Mi risulta che già domani ci saranno le prime uscite dalle carceri italiane. Si parla tanto di certezza della pena, facciamo le intercettazioni ovunque. Perché ci sono state le rivolte, probabilmente è per disinnescare le rivolte che sono state, l'abbiamo vista, qualche giorno fa abbiamo avuto anche il dramma delle rivolte nelle carceri. Forse per disinnescare quello. Ma lo Stato serio, se un detenuto incendia un carcere non è che a quello della cella di fianco dà il premio, ti chiude la cella e ti lascia in cella per sei mesi in più. Ti dà le mascherine, ti dà i guanti, ti dà la mucchina, ti tratta bene, però se mi incendi un carcere non è che do il premio allo spacciatore e lo faccia uscire. Mi sembra veramente un insulto soprattutto alle forze dell'ordine, che per beccare quel rapinatore o quello spacciatore, polizia e carabiniere hanno rischiato la vita per metterlo dentro. Abbiamo ancora un minuto Salvini, al posto di Conte qual è il primo provvedimento che prenderebbe Salvini se fosse al posto di Conte? La pace fiscale generalizzata per tutto il 2020. Saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia, blocco di tributi e contributi. È l'unico modo per permettere alla gente, quando passerà il virus, di tornare a lavorare e a sorridere. Se lo Stato continua con le cartelle esattoriali, se non interviene sugli affitti, sui mutui, sulle bollette, non si va da nessuna parte. La cassa integrazione, che riguarderà milioni di persone, ha solo un miliardo e 300 milioni di budget. Stanno parlando del click day. Ti rendi conto che l'Inps sta pensando a un click day per i lavoratori autonomi per avere i 600 euro. Chi arriva prima sta bene e chi arriva in coda cosa fa? Allora, abbiamo chiuso. Non mi sembra un modo di lavorare serio. Grazie a Matteo Salvini, buon lavoro. Torniamo tra pochissimo.